Buona squadra Cantù, in un ambiente che la fa rendere ancora di più, fatta di ottimi tiratori esterni, Luinen chiave, giocatore chiave, che perfettamente sta collegando il reparto degli esterni con quelli lunghi, e certamente giocatori di altissime specialità come Cousin, Raglan, Gentile, Jackson, che con aradori ciliegina sulla torta, tutti a disposizione, chi più stanco e chi meno stanco, perché queste due settimane le abbiamo sfruttate anche per caricare un attimino in più in ottica del fine del campionato, visto che non avremo neanche altra settimana alla partita, per dire che andiamo convinti di dare il meglio di noi stessi e fare una bella partita in un bel ambiente, tra l'altro. Tornando sulla domanda di prima, penso che Johnson in teoria dovrebbe stare fuori. Questi sono uguali, il pallone è uguale, se le condizioni del gioco sono uguali, Le condizioni sono uguali, sia per noi che per Cantù, è vero che loro avranno tifo in favore, ma sperando che le condizioni sono uguali, compresi pure gli arbitri, compresi tutti, penso che bisogna andare con testa alta e cercare di vincere.